Ciao! Questo è il primo video del programma Arche Kids, dedicato ad allievi tra gli 8 e i 12 anni. Potrete seguirmi, rivolti verso lo specchio, oppure ascoltando le mie indicazioni verbali. Vi aspetto con un bel riscaldamento. Andiamo! Siete pronti a schiacciare play? Seguiamo le indicazioni sia in inglese che in italiano. Starete sul posto. Siete pronti? Seguitevi. Ci scaldiamo. Come un elastico. Correte sul posto. Starete sul posto. Stop! Per me! Rego! Stop! Correti su posto! Corri! Stop! Per me! Stop! Settate! Come volete! Liberi! Alza! Stop! Per me! Correte su posto! Più veloci possibile! Rapidly! Più veloci! Più veloci! Più veloci! Stop! Prenda! Per me! E adesso ci sciogliamo come la mozzarella sulla pizza! Scioglieteli morbidi! Morbidi! Rilassandoli! Un bel respiro! Un bel respiro! Fate l'angelo della neve! Restiate! Restiate! Rilassate! Un attimo! E poi saremo pronti! A partire! con delle isolations! Con delle isolations! Significa che muoveremo solo una parte del corpo alla volta! Solo quella che decideremo! Solo quella che decideremo! Sì! 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 Sì!